presidente all'area al cittadella resteranno solo le mura storiche state eliminando tutto ciò che c'era di abusivo sì praticamente quella è la scelta corretta della sovrintendenza che noi stiamo attuando è quella di levare tutto quello che non c'entra nulla quindi speriamo già si comincia a vedere qualcosa di riportare tutto non diciamo com'era in origine perché purtroppo comunque molte cose sono state danneggiate un lavoro lungo però sarà la volta buona finalmente per il recupero e la valorizzazione di questa cittadella abbiamo iniziato e non ci stiamo fermando bisogna fare attenzione infatti siamo abbastanza presenti ormai da un paio di anni che seguiamo il veramente il meritevole lavoro che sta conducendo l'autorità portuale di sistema e grazie al loro intervento noi riusciamo a liberare delle strutture che sono estrane alla alla cittadella e stiamo continuando e via via abbiamo proseguito in questo percorso abbiamo autorizzato con delle prescrizioni che l'autorità sta seguendo e quindi siamo all'interno dei nostri compiti istituzionali di tutela e svolgiamo anche l'alta sorveglianza affinché tutto si possa svolgere nel migliore dei modi in quest'area ci sono spesso degli occupanti abusivi state pensando anche a una nuova recensione a chiudere i barchi d'accesso sì purtroppo si voleva evitarlo perché è chiaro che una volta che si pulisce magari poteva essere anche più facile cominciare in qualche modo a renderlo fruibile però ci siamo resi conto che non è facile le persone continuano a cercare rifugio in questo spazio quindi a questo punto prima di continuare a pulire poi dopo essere costretti perché al di là degli abusivi ci sono anche molti incivili che scaricano rifiuti quindi adesso cerchiamo anche di renderlo difficile e poi se continueranno vedremo anche di realizzare delle fototrappole o qualche cosa perché è veramente una vergogna pensare che si possa venire in quest'area a scaricare rifiuti Siamo in una zona inquinata, quali prossimi passi per la bonifica? A giorni si chiude la gara per individuare la ditta che dovrà svolgere le caratterizzazioni noi abbiamo impegnato quasi 700 mila euro su questa attività speriamo di portarla presto a compimento anche perché abbiamo necessità di conoscere esattamente lo stato della contaminazione e avviare un piano di un progetto di bonifica indispensabile per individuare le risorse quindi diciamo che ci stiamo arrivando quindi speriamo entro i primi mesi del 2021 che anche questa attività sia conclusa A proposito di risorse anche per la valorizzazione di quest'area per renderla finalmente fruibile dopo tanto tempo serviranno probabilmente diverse decine di milioni di euro Forse molti di più, noi abbiamo preparato una scheda per il MIT insieme ad altre in cui abbiamo indicato i progetti prioritari quelli che sono stati individuati nell'ambito del POT e in questo momento da una stima sommaria ripeto che però speriamo di affinare una volta che la caratterizzazione sarà completata Stimiamo che per bonificare e dare attuazione alle previsioni del piano regolatore compreso la possibilità di utilizzare anche risorse dei privati in alcuni spazi saranno necessari tra gli 80 e i 100 milioni di euro, quindi cifre importanti Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!